onorevole milanato ci può parlare della sua attività attualmente alla camera e in che commissione fa parte quindi passiamo ad un aspetto anche diciamo legale a questo punto così ci dà anche una profilazione della sua attività specifica delle problematiche che ha avuto anche con il governo nel portare avanti le sue istanze allora sì andiamo in ordine io in questa legislatura lei l'ha già detto all'inizio in presentazione ringrazio anche per la presentazione in questa legislatura ho chiesto di poter essere assegnata la prima commissione affari costituzionali diciamo che io considero la prima commissione la commissione tra virgolette più nobile poi sono tutte nobili ovviamente perché la commissione dalla quale passano i provvedimenti più importanti è la commissione che si occupa delle grandi riforme in particolar modo delle riforme che in qualche modo toccano la nostra costituzione ma perché è anche la commissione che ha visto come presidenti a presiedere questa commissione personaggi illustri che hanno fatto la storia del nostro paese per andare ai più recenti un ricordo al nostro amatissimo presidente donato bruno al presidente violante persino e insomma personaggi che con la politica e con la costituzione potevano andare a breccetto tranquillamente purtroppo sono capitata nella legislatura sbagliata perché questa è una legislatura che si è distinta per aver tentato una legiferazione e aver legiferato adesso non voglio usare termini pesanti come ha avuto modo di dire qualche mio illustre collega nelle dichiarazioni di voto ma aver legiferato con i piedi se pensate che ho citato prima nomi di illustri presidenti di questa commissione oggi a presiedere questa commissione c'è un volenteroso rappresentante di cinque stelle che di mestiere faceva il pedagogista nulla contro i pedagogisti però voi capite bene che se si va a mettere mano alla costituzione ci vuole qualcuno che abbia l'esperienza conoscenza insomma abbiamo parlato di grandi avvocati esatto legislatori veri ecco e si è distinta poi questa legislatura questi due anni e mezzo ormai di lavoro in commissione per lo scempio che si è fatto in alcuni provvedimenti ne cito solo uno la riforma costituzionale all'articolo 71 quella che prevede il referendum propositivi ecco quella è stata secondo me uno degli attentati principali alla democrazia parlamentare ecco con questa legge secondo i desiderata dei 5 stelle chiunque raccolga 500 mila firme può presentare una proposta di legge bypassando che poi diventerà una legge appunto bypassando il parlamento ecco questa è una cosa di una gravità anche perché poi non c'è stato un non ci sono stati dei pareti e un perimetro importante nelle materie nelle quali era possibile fosse possibile presentare queste progetti e progetti di riforma legislativi legislativi esatto cioè persino nella materia tributaria loro ritengono che si e voi capite che è una cosa pericolosissima ecco io ricordo la scorsa legislatura dal 2013 al 2018 il movimento 5 stelle è arrivato in parlamento dicendo fuori le lobby dal parlamento con questa riforma loro danno alle lobby un potere enorme basta l'organizzazione di una piccola lobby che raccolta 500 mila firme e si può portare una legge che poi stravolgerà in alcuni aspetti potrà stravolgere la vista del nostro paese la verità è che non ci si può la legge diventa direttamente attiva o deve essere poi votata all'interno del parlamento se entro 18 mesi il parlamento non analizza questa legge non porta a compimento l'approvazione di questa legge esatto questa diventa legge voi capite che è una cosa pericolosissima cioè vengono meno il potere legislativo viene meno il potere legislativo del parlamento cioè questa cosa ci preoccupa molto ma poi su un'infinità di altri provvedimenti quando si è parlato di legge elettorale vabbè ancora una cosa in itinere tantissimi argomenti che sono stati discursi in questo periodo la verità è che legislatori non ci si può improvvisare e non si può essere catapultati in organi costituzionali senza conoscerne la base i principi o senza avere quel minimo di modestia e di voglia di imparare prima di intraprendere alcune strade quindi un'esperienza negativa devo dire questa di questa legislatura nella commissione attivi prima affari costituzionali ecco io spero che anche con l'avvento di questo nuovo governo anche l'approccio rispetto a queste cose con la presenza nel governo di autorevoli personalità che vengono anche da questi mondi si possa provare a fare meglio anche perché fare meglio di così chiarissimo chiarissimo grazie 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 grazie